Sì, noi eravamo presenti con alcuni dei nostri componenti a questa silenziosa e rispettosa manifestazione. Siamo rimasti molto colpiti perché coloro che si ergono sempre da fautori del rispetto e comunque contro l'odio e contro ogni tipo di violenza testimoniano poi, come in questo caso è successo a Fano, tutto l'opposto, cioè vedere, attaccare con offese molto forti e comunque anche con atti verso la violenza, verso gli altri, su una manifestazione silenziosa come quella dell'altra sera. Io la vedo come un attacco alla libertà di opinione, un attacco da quello che ho letto anche sulla stampa, il gruppo era il gruppo del Grizi, dove noi più volte siamo intervenuti, nei tempi passati quando avevano occupato la casa del custode e poi tutto il percorso che è stato comunque appoggiato dall'amministrazione comunale. Avete lanciato un appello anche al prefetto Vittorio Lapolla, per quale motivo? Sì, sì, senz'altro. Il prefetto è un'autorità principale, in questa regione rappresenta anche il governo nella regione Marche, quindi riteniamo opportuno che il prefetto anche debba intervenire e accertare soprattutto che quello lì che è successo intanto che sia una contromanifestazione autorizzata, perché se così non fosse, chiaramente poi bisogna intervenire una volta per tutte, insomma, è inaccettabile quello che è successo. Le autorità devono fare il loro percorso e accertare tutto quello che c'è da accertare. Vi siete rivolti anche a sindaco e assessore Mascarino? Certamente, il sindaco in qualità di primo cittadino, l'assessore Mascarino e in qualità anche di assessore alla legalità per il fatto che comunque abbia il coraggio pubblicamente di prendere le distanze da quello che è successo l'altra sera.